Andata! Tutta la gomma! Posto? Si, si vede, si vede! Vai alla grande! Qualcuno è arrivato, qualcuno l'abbiamo perso! Ma niente, dopo lo recuperiamo! Forse! Questa è proprio la cima del monte! Si! Questo è il monte! Prima, la casa sua, dove c'ha dato il bambino... No! No! E' quella là sotto! La dovevamo mangiare lì? No, no! E' che recuperato? Figa! E' arrivato? No, no! Più o meno dove eravamo... Una foto qua di Gondo! Una foto qua di Gondo! No! Che cazzo c'è? E' buona! E' buona! E' buona! E' buona! Da 2000! Da 2000! L'ultima foto qua, con le capre! Che c'erano qua sotto! Questa è la cima più alta che c'è qua nelle nostre esore! A parte Guglielmo! Qualt'è che è? Guglielmo? Quanto è? 1.800! Qua è 1.300! Qua è 1.300! Qua è 1.300! Tutto è poco! Ma che ci vieni qua... Nel periodo... Ma siete pazzi! Oltre di là dalla montagna! Ma non riesco neanche a far muovere il pendolino! Cazzo! Allora! Si! Ma no! No!